100 metri a percorrere in pista piccola, tutto pronto, partiti! Come era prevedibile, Davidia va a scandire un po' il ritmo, in seconda posizione c'è De Silva che è in terza a cuore rosso, poi in quarta all'esterno Brigianiav, poi è franchetto e male lingue in una sorta di lunga fila indiana, con Davidia che a questo punto l'ha presa anche abbastanza allegra. Prima parte di gara, 5-6 lunghezze di vantaggio, qualcosina di meno forse rispetto a De Silva, alle cui spalle si prepara cuore rosso, poi ancora Brigianiav ed una coppia formata da franchetto e male lingue. Questo è lo schema di gara che per il momento non muta, Davidia in vantaggio, tre lunghezze nei confronti di De Silva, poi in terza posizione c'è il favorito cuore rosso, in quarta Brigianiav, poi franchetto in coda, male lingue. Cavalli a tre quarti della curva, quando si apprestano ad entrare in dirittura di arrivo, oggi la pista piccola con Davidia che precede De Silva, in terza posizione c'è cuore rosso, poi si prepara all'esterno anticipando un pochino anche male lingue, in quinta all'interno c'è franchetto, poi Brigianiav che in questa fase perde qualcosina, Davidia in vantaggio, è messa sotto pressione da De Silva, si prepara come fa al suo solito cuore rosso, ancora più all'esterno però ci sono male lingue e Brigianiav con franchetto che cerca lo spazio, molti con chance, Davidia è messa sotto severo attacco da De Silva e soprattutto da cuore rosso, poi all'esterno si prepara ancora male lingue, Brigianiav, cuore rosso contro male lingue, in questo momento il tema della gara è questo, con cuore rosso che dall'interno cerca di sfuggire all'attacco di male lingue, i due si staccano in lotta dall'esterno però male lingue, giustizia, cuore rosso. Dobbiamo rivederla, una bella lotta tra questi due, con male lingue che è andata sempre in percussione su cuore rosso, e nella fase finale mette una testa davanti, per il terzo sono molto vicini Davidia, Franchetto e Brigianiav con Franchetto che ha conquistato la terza piazza. Vince dunque Mirko Sanna, il training è quello della società allenamento Riccardo Betti, i colori sono di Renato Sanna, la quota al totalizzatore di 25,46.